Musica Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col bianco e rosso Tibi Sports. Sarebbe da dire pur si muove, un punto. Si è mossa la classifica dopo 5 stop consecutivi, i problemi non mancano e purtroppo sono aggravati dagli infortuni che continuano a decimare l'organico. Fra poco vi diremo altre cose, però questo piccolo segnale di vita dobbiamo augurarci sia una ripartenza. Ce l'auguriamo anche con i nostri ospiti, Antonello Remondo, amico e collega Antonello Remondo. Gigi Frisini, ciao Gigi, ben ritrovato. Avete visto un Bari in ripresa o no? Devo dire che mi è piaciuto l'approccio alla gara, nel senso che ci si poteva aspettare una squadra impaurita, una squadra attesa. Invece ho notato la voglia di tornare a essere il vecchio Bari, di fare la partita, di giocare in maniera spensierata. Man mano questa voglia forse è andata scemando anche a causa di un campo molto molto complicato. Io però dico che prima di certificare un avvio di guarigione vorrei attendere le partite in casa, perché un conto è giocare in trasferta con la possibilità anche di fare pareggio, un conto è quando devi vincere, hai bisogno di vincere. Tu che hai visto Gigi? Enzo bene, bene Melmonte, ho rivisto un Donati un po' più su di tono, la squadra però lo stesso Alvarez a sinistra ha potuto 3-4 volte, perché lui converge col destra, tirare in porto. L'unico problema è la sequela continua di infortuni, però mi sa che nel Campeonato italiano è un problema comune un po' a tutte le squadre. Apriamo le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi di diretta telefonica. Non so se abbiamo subito un amico in linea, pronto? Aspettiamo qualche istante. Allora nel frattempo, nel frattempo, mandare in onda la conferenza stampa di Ventura. Cosa ha detto Ventura ieri a fine gara al Bente Godi? Vi dico subito che non c'è ancora un bollettino ufficiale per quel che riguarda gli infortuni, perché peraltro il Bari è tornato tardissimo, ha avuto problemi col charter, che ha atterrato a Bari alle 5 del mattino, quindi la giornata per il Bari è iniziata poco fa praticamente, perché i giocatori ovviamente si sono riposati, si sono svegliati più o meno dopo mezzogiorno. Allora sentiamo cosa ha detto Ventura e poi torniamo in studio. Dal nostro punto di vista è un punto assolutamente importante, non perché venivamo da 5 sconfitte, ma ci venivamo anche con una squadra in assoluta emergenza, abbiamo perso 7 giocatori e tutti importanti, e dopo mezz'ora abbiamo perso pure Kutuz, dove dentro avevo in panchina 5 giocatori che neanche avrebbero mai immaginato di poter andare in una panchina di Serie A, lo dico in senso positivo, non in senso dispregiativo. Quindi non era facile venire su un campo difficile come quello di Verona, non abbiamo concesso, credo neanche un tiro in porta, quindi c'è stata una grande applicazione, credo che ci sono stati segnali importanti di valori di questa squadra, valori morali soprattutto oggi. Io spero che questo punto sia importante, non tanto per la classifica che non possiamo neanche stare a guardare, mancano ancora 7 mesi alla fine del campionato, ma sia importante per la testa dei giocatori, che li riporti quella serenità che li permetta di riprendere a giocare. Oggi abbiamo anche lo sommato giocato dove era possibile giocare, ma abbiamo ancora quel maccino sulla testa che non ci permette di essere sbarazzini come siamo stati per un anno e qualche mese. Non lo so cosa succederà. Spero che sia il punto più importante della stagione, perché ci dia la possibilità di ripartire. Questa avventura, c'è Giorno Michelinia, pronto? Pronto? Sì, ciao, ciao. Ciao, sono Vito da Piccone. Ciao Vito, ciao caro, ciao. Senti, volevo fare una domanda, a me mi è solto sempre questo dubbio, che io non l'ho mai capito. Come mai si è acquistato l'Angella, e Ventura non l'ha mai schierato, eppure è un ottimo giocatore l'Angella. Cioè, la sua carriera comunque non è da disprezzare, e non l'ha mai schierato. E mi sa che sta ancora in rosa l'Angella. Beh, e ancora sul libro paga del bar, diciamo così, Antonello. Mi passi una palla bollente, insomma, io devo stare a quelli che sono i fatti. Evidentemente l'Angella non ha mai convinto Ventura in allenamento, evidentemente non ha mai avuto l'approccio giusto, a un certo punto poi si è creato, credo, un gelo tra Ventura e l'Angella. L'Angella mi risulta che pur essendo ancora pagato dal bar, si alleni a casa sua, per conto suo, insomma. C'è proprio addirittura la voglia, la necessità di non vedersi nemmeno. Quindi insomma, diciamo che siamo proprio là. Ricordo l'Angella che peraltro è uno dei giocatori più pagati del Bari, se non sbaglio 650 mila euro stagione. Credo sia anche 700 mila euro stagione, ancora per un altro anno, questo è un altro. È un giocatore che pesa anche moltissimo sui bilanci. Avete visto segnali reali di ripresa da parte del Bari? Ditecelo allo 080 501 9998. Pronto? Pronto Enzo? Ciao. Buon pomeriggio, sono Mimmo Biancolato da Bari. Ciao Mimmo, ciao. Ciao Mimmo. Buonasera Antonello, l'amico, e il signor Prisì. Grazie. E niente, voglio parlare a partiti ieri. Cioè io non ho visto un risveglio, eh. Togliendo i primi 20 minuti della partita, è stata una partita, diciamo, a ritmi lenti. Poi si è visto, diciamo, sempre spente queste fasce, togliendo al Varex il primo tempo, perché secondo tempo è stata un'esistente. Non lo so fino a che punto. Cioè abbiamo acquistato, si sapeva in inizia stagione che il mercato del Bari fosse da, non dico da 5 e mezzo, ma quasi, lo sapevamo in tutti. Però, guarda, non si può comprare certi giocatori tipo Rinaldi, che una riserva del Rimini mettono in panchino in Serie A. Poi non dobbiamo parlare di altri giocatori. Grazie, Mimo, per la tua analisi. Hai fatto un esempio, ma in effetti, insomma, io l'ho sempre detto, voglio dire, il mercato ha badato soprattutto a conservare Almiron e Barreto, per il resto, francamente, insomma, non mi sembra di poter dire... Ma Rinaldi sul bilancio della società non è posata in un parametro zero, niente, niente, è un giocatore, però il problema non è Rinaldi. Il problema è che di fronte ha deteriorato infortuni, poi ti rendi conto, una partita importante come quella di ieri, vedi la panchina del Bari, hai recuperato, è vero che li ha recuperati pure la Juvenzi, fuori Rossi, vedi Grosto, vedi qualche altro. Ti trovi un galasso al cui non è stata data alcuna possibilità quest'anno, lo stesso Strambelli, però, bene o male, l'interessanza, secondo me, il punto di Brodino preso ieri è proprio quel che ti deve servire alla partita importantissima di domenica, perché se tu fai risultato, rientri subito nel gruppone di quelle che stanno a 12 punti e poi costringi sicuramente il Parma ad avere dei problemi. Il Parma che gioca stasera, non sappiamo cosa fa con la Sampdoria. Però noi, scusa ancora, il vantaggio del giorno di riposo che avevamo, ci siamo giocati con questo ritorno alle 5 di stamattina. Io, francamente, però, non vorrei essere sempre controcorrente. Io non riesco a vedere sulla carta un Bari così inferiore a quello dell'anno scorso. Magari sì, un gradino sotto, però continuo a dire che il Bari, ovviamente al completo e con la rosa che si esprime al massimo debba essere una squadra che abbia l'obbligo di salvarsi. Insomma, ripeto, l'anno scorso il Bari addirittura avrebbe potuto, come tutti sappiamo, sfiorare, accarezzare anche la zona europea. Diamo anche per buona la valutazione di un Bari inferiore, ma non talmente inferiore da non centrare l'obiettivo salvezza. Fermiamoci, pubblicità, poi tante altre interviste, ma anche le vostre considerazioni. La domanda di oggi è che avete visto un risveglio reale del Bari, un passo in avanti. 080 501 9998 Fra poco.